GG a tutti ragazzi, sono Alien e ci siamo. Blizzard ha mostrato il primo nuovo eroe che si unisce al roster iniziale dei 21. Ricordo che tutti i nuovi eroi che verranno aggiunti torri in avanti saranno sempre e comunque gratis, non bisognerà pagare niente per ricevere questi aggiornamenti. Bene, detto questo, parliamo proprio di Ana, un eroe di tipo supporto con difficoltà settata a 3 stelle. È un eroe abbastanza semplice da comprendere, ma con il quale fare bene non è proprio scontato. E vi dirò che nel gameplay che state vedendo e che vedrete dopo, ho già cominciato a notare i miei primi grandi errori nel giocare questo tipo di personaggio, ma andiamo con ordine. Al momento Ana è unicamente giocabile su server di prova di Blizzard, un server staccato dagli altri, dove vengono pubblicate le patch successive, in modo che tutti i giocatori possano provare il gioco con le nuove modifiche, prima che esca ed eventualmente correggere imperfezioni prima che questa patch vada effettivamente live. È il famoso PTR del quale ho sempre parlato così bene, se vi ricordate. È una cosa tipica di Blizzard questa qui. Il PTR è unicamente disponibile su PC. Ci sono anche altre novità pubblicate nell'ultimo aggiornamento, ma ne parleremo più avanti in questo video. Per ora concentriamoci sommariamente su Ana. Questo non è un focus eroico, amici. Arriverà quando avrò capito come giocare il personaggio. Ana, tanto per cambiare, è l'ennesimo personaggio caratterizzato in modo magistrale. Ha una sua storia, che vi invito a guardare, visto che Blizzard ha rilasciato un video sulle origini di Ana, ed è anche in italiano, lo trovate in descrizione. È un ex agente di Overwatch, uno di quelli che probabilmente abbiamo già visto in qualche immagine, dove potevamo notare Morrison o Reyes, soldato 76, il Ripper, insomma. Tutti impegnati nel combattimento fianco a fianco. È una veterana, non solo per il fatto che la signora Amari ha 60 anni. Ana è la madre di Pharah. Ma ripeto, non voglio entrare nella storia, non è un focus eroico questo, anche perché la storia narrata nel video delle origini è davvero bella, e ancora una volta rinnovo l'invito a darci un'occhiata. Come detto, Ana è un cecchino di supporto. Scelta molto originale, devo dire, perché il suo fucile biotico è in grado di sparare dei dardi che possono sia rigenerare la salute dei nostri compagni, ma che allo stesso tempo possono infliggere danni ai nostri nemici. Possiamo usare lo zoom del mirino per diventare più precisi, ma una delle cose che ho notato è che utilizzare il fucile senza mirare può rivelarsi una buona scelta da una distanza abbastanza ravvicinata, proprio perché questo fucile è molto preciso. Cecchino, sì, ma uno dei famosi concetti da smentire subito è che non è un cecchino addivito al danno, perché, per esempio, non potremmo effettuare colpi alla testa, nel senso che colpire in testa farà gli stessi danni del colpire al corpo. Non ci sono comunque penalità digitata per i colpi che infliggiamo. Possiamo sparare sino a 6 dardi prima di ricaricare. La prima abilità è dardo soporifero, che ci permette di sparare un dardo che addormenta letteralmente il nostro bersaglio per breve tempo. Tuttavia, il minimo danno inflitto al bersaglio lo risveglierà anzitempo. Quindi direi che è un'abilità ideale per mettere fuori gioco temporaneamente avversari fastidiosi, esempio, un tank arrabbiato, o si può usare tranquillamente per interrompere alcune ultra avversarie, come quella di McCree, uno a caso, eh. La seconda abilità è la granata biotica, una granata che permette sia di infliggere danni agli avversari, sia di curare i propri compagni di squadra. Il tutto in una piccola area d'effetto. Tra parentesi, chi è all'interno di quest'area, parlo dei compagni, beneficerà di un aumento di tutte le cure da tutte le fonti, mentre i nemici colpiti dalla granata non potranno essere curati per breve tempo. E ci accorgeremo di tutto questo perché, per esempio, se lanciamo una granata sui compagni, oltre a curarli, vedremo la loro barra con una freccia giallastra, che ci indicherà che in quel momento ricevono più cure da tutti. Al contrario, sui nostri avversari vedremo una barra violacea con il simbolo della cura ed un divieto, che indicherà che quell'obiettivo non potrà ricevere cure per quegli istanti. L'abilità ultra è biostimolatore, che permette di colpire un alleato fornendogli un boost alla velocità, ai danni e alla difesa. Essenzialmente si può rendere un compagno davvero, ma davvero pericoloso. E una delle combinazioni che ho visto più usare è quella con Reinhardt. Vi assicuro che vedere un Reinhardt con dei fulmini attorno, sì perché chi viene bersagliato da biostimolatore si nota grazie all'effetto grafico descritto prima. Dicevo, un Reinhardt così è semplicemente devastante, ma potrei dirvi anche un soldato 76 o una fara, insomma, le combinazioni sono tantissime. Le prime impressioni, beh, è un eroe che mi piace davvero tanto, perché il supporto non è uno dei ruoli per i quali normalmente si fa botte. Credo che questo stile sniper ingolosisca parecchio, ma c'è un però. Giocarlo anche come ho fatto io credo sia sbagliato. Ana non è un eroe che fa della mobilità il suo piatto forte, non è fatta per affrontare i nemici uno contro uno da vicino. Non dobbiamo usarla con la convinzione che sia una specie di Widowmaker, perché è vero che comunque può far danni, sempre fissi, che il daddo colpisca ad un piede o la testa non fa differenza, ma non è quello il suo ruolo. Dovrebbe stare distante dalla zona calda, quindi quasi mai all'interno di un obiettivo curare i propri compagni, addormentare gli healer o i tank, sparare granate, ma sempre stando lontano dall'azione. Purtroppo nella foga di ieri, beh, me la sono giocata nella maniera forse non ideale, ed è una cosa che si capisce solo dopo aver guardato il mio gameplay. Tra parentesi, era quasi impossibile riuscire a giocare seriamente, visto che in qualsiasi partita capitassi, il team era generalmente formato da 4-5 Ana, quindi potete ben capire quanto fosse sbilanciato l'equilibrio di gioco. Chiaramente tutti volevano provare Ana. Detto questo, le mie prime impressioni sono senz'altro positive, beh, è un personaggio che deve essere giocato bene, non è un attacco, c'è bisogno di più cervello e meno istinto. Ah, ho notato che soffre molto contro Zarya, quegli scudi sono dannatamente fastidiosi. Comunque, parliamo anche delle altre modifiche portate all'aggiornamento sul PTR, queste non sono definitive, sono in prova, quindi non è detto che saranno confermate nella vera patch. Mi soffermo sui dettagli importanti, per l'articolo completo lo trovate in descrizione. Per i supplementari, se il match supera i 20 secondi di supplementari, la miccia comincerà ad esaurirsi molto più velocemente, i giocatori risponeranno due secondi più lentamente durante i supplementari, cosa molto importante, secondo me, giusta così. Occhio qui, per la modalità competitiva, i match potranno avere solo un eroe per team. Personalmente adoro questa scelta, davvero, credo sia una delle mie novità preferite. Bilanciamenti ad alcuni eroi. Da adesso, le abilità che curano aiuteranno a caricare la propria ultra. Tuttavia, alcuni eroi necessiteranno di più tempo per caricare la propria ultra, appunto per controbilanciare questa cosa. Per Bastion, il costo di ricarica della sua ultra è stato aumentato del 10%. D.Va si era parlato di renderla più competitiva e così è stato. Matrice difensiva ha un tempo di recupero di un secondo invece che 10, ma è stato aggiunto un nuovo misuratore di risorse che farà la sua comparsa quando la matrice è attiva e si ricaricherà quando non sarà in uso. La matrice difensiva ci metterà 10 secondi per ricaricarsi completamente e a piena carica durerà 4 secondi. Resterà attiva tanto quanto la terremo attiva NOIP con il pulsante designato, meccanica simile a Reinhardt per intenderci, e sarà considerato attacco alternativo, quindi tasto drestro sul mouse per capirci, sì, un Reinhardt 2.0, giusto così. Per l'autodistruzione costo ridotto del 15%, ritardo di esplosione diminuito a 3 secondi invece che 4 e non danneggerà più il giocatore che l'attiva, fantastico. Lusio costo ultra aumentato del 10%, per quanto riguarda McCree la sua ultra manterrà pieno danno a grandi distanze ma farà meno danno a distanze estreme. Mercy il suo boost ai danni è stato portato al 50% e non si accumulerà più con altri bonus di danni dati da altre Mercy. Per la ultra aumentato il costo di risorse del 30%, ci si potrà muovere mentre la si attiva e l'abilità Angelo Custode si resetta immediatamente dopo averla usata. Rodog, costo dell'ultra aumentata del 45%, visto che è sicuro come un forsennato. Soldato, la precisione del reticolo dopo una raffica si resetterà dopo un breve periodo di tempo invece che istantaneamente. Costo dell'ultra aumentato del 10%. Ed infine il mio Zeniatta avrà 50 unità di scudo in più, quindi 50 salute e 150 unità scudo. Per i globi della discordia e dell'armonia, la velocità dei proiettili è stata aumentata a 120 dai 30 iniziali. L'ultra trascendenza, velocità di movimento raddoppiata quando si attiva, le cure al secondo passano da 200 a 300. Bene, per il resto sono fix a vari bug e cambiamenti social, insomma il grosso dell'aggiornamento era questo. Che dirvi, non ho ancora provato tutto a modo, ma ripeto, Ana, grande aggiunta al roster dei supporto, contento e perdiva e zeniatta. E questa sera sarò sul mio canale Twitch proprio per giocare un po' al PTR e magari provare un po' Ana, quindi sarò su PC. A voi i commenti dunque, cosa ne pensate di Ana e di questi cambiamenti del PTR? Io come al solito vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e Elien vi saluta. Love and peace, eroi! Grazie a tutti!